Qualsiasi cosa accada, qualunque cosa a me sconosciuta mi possa accadere la prossima ora domani, certamente non la potrò modificare con la paura e l'ansia. L'affronto, dunque, con perfetta pace interiore, con il mare del sentire perfettamente calmo. Paure d'angoscia paralizzano la nostra evoluzione. Paure d'angoscia paralizzano la nostra evoluzione. Respingiamo allora le ondate di paura e di ansia, per quanto nella nostra anima ci viene incontro dal futuro. La devozione nei confronti di ciò che viene chiamato la sapienza divina presente negli eventi. La certezza che qualsiasi cosa accadrà perché doveva accadere e che qualsiasi ne sia la direzione avrà comunque i suoi effetti positivi. Traducendo questo atteggiamento animico in parole, sentimenti, idee, realizziamo lo stato d'animo della preghiera devota. Ciò appartiene a quello che dobbiamo imparare in questo tempo. Dobbiamo imparare a vivere con pura fiducia, senza alcuna sicurezza nell'esistenza, con la fiducia sempre presente del mondo spirituale. In verità, oggi non può essere altrimenti se il coraggio non deve inabissarsi. Discipliniamo adeguatamente la nostra volontà e cerchiamo risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Appa!